Come ultima cosa ad Antonio Muscatello Va bene, va bene Che quest'oggi c'era con Fisci la partita Eh, beh, penso vinca l'Inter Risultato? 3 a 1 Chi segna? Eh, questo è troppo per me Dai, va bene, a lui concediamo il risultato Concediamo quello, parliamo invece di un'iniziativa Perché qui, perché qui Antonio Muscatello? Un'iniziativa molto importante, a cui mi vorrei veramente scrivere Purtroppo dei miei problemi di schiena non mi possono... C'è una gara a Monza, Ice Running Music Ovviamente serve al patrocino di Radio DJ Del San Gerardo di Monza, dico male? Dico bene Sono 5,8 km all'autodromo di Monza Quindi anche un panorama molto bello Si raccolgono fondi, ovviamente per... Sì, è una gara, diciamo, una gara podistica non competitiva Di 5,8 km all'autodromo di Monza Sabato 14 settembre, nel pomeriggio alle 17.30 Ed è una gara che ha come obiettivo Prima di tutto quello di diffondere l'informazione Sull'infezione d'HIV e sull'AIDS E poi per raccogliere fondi a favore di AnLights Che è un'associazione on-lus non a fini di lucro Per la raccolta fondi per, appunto, l'informazione nelle scuole E anche per la ricerca sulla malattia d'HIV AnLights è una fondazione che da sempre Si occupa di questo, purtroppo, problema Che sembra essere, insomma, sconfitto A livello mediatico sembra sconfitto Però in realtà non è così Esatto, solo a livello mediatico, purtroppo Perché, mentre da una parte noi, grazie alla ricerca Negli ultimi dieci anni, abbiamo visto un enorme calo Della mortalità correlata con l'AIDS Abbiamo però, per converso, un aumento Invece delle nuove infezioni d'HIV Quindi, le nuove diagnosi sono sempre di più La malattia si cura meglio Abbiamo una sopravvivenza media Di 50 anni dalla diagnosi Quindi, insomma, i nostri pazienti vivono bene Fanno la loro vita normale Il problema è la conoscenza della malattia E il fatto che bisogna fare il test Tutto qua, quindi questa è l'informazione Che noi vogliamo portare Grazie anche a queste manifestazioni Perché il nostro obiettivo è quello Delle zero infezioni d'HIV Ti ringraziamo Io vi invito a partecipare a questa corsa Il 14 settembre, lo ricordiamo L'autodromo nazionale di Monza Inizia alle ore 17.30 Ci si ritrova alle 16 La corsa inizia alle 17.30 5,8 km Loro hanno messo il tempo limite di 90 minuti Vi dico io che se la fate camminando Ci mettete... Tipo Monzani Tipo me, potrei farla camminando Quasi quasi vengo Anzi Anche io, sì, camminando Ecco, vedi Fate anche il tempo venire a vedere l'Inter Juve dopo Con grandissima tranquillità, ve lo dico Iniziate l'endata a Monza Fate una bella camminata nel parco Raccogliamo fondi per una cosa utile E poi dopo, insomma, andate a vedere la partita E gli intervince 3-1 anche lì Signor Monzani, quando sarebbe questa corsa? Venite con noi a correre contro l'AIDS Grazie mille, ciao Grazie, avete visto poi anche in sovraimpressione il sito Per maggiori informazioni Questa è la Locandina Signorina Nagaia Scarpini, ben ritrovato Posso chiedere quando è la corsa? Sì, perché io ho capito lei dove vuole arrivare Io ho capito dove vuole arrivare 14 settembre Il giorno della settimana? Sabato Sabato E perché lei ha detto che Inter Juventus si giocherà di sabato sera? Sì, sì, sì Perché secondo me loro chiedono un anticipo Perché loro chiedono un anticipo, secondo me, così la metto lì Ma butto lì, eh Ben ritrovato Scarpini Sì, perché ci saranno degli impegni di Champions potenziali Nel senso che per ora ci sono E quindi è probabile che anticipino al sabato E quindi sarà sabato alle 20.45 quasi sicuramente